Nessuno sa la verità sulla coppia, è vero che non ci sono nuove foto della coppia, ma è comunque molto strano, Khan non ha una fidanzata e Deme non ha un fidanzato, comunque le riviste parlano di loro che si vedono l'un l'altro a prima vista. Possono essere vere o false? Ma l'uno o l'altro dei giovani che non hanno amore è sorprendente. 1. La verità sulla coppia non è sconosciuta a nessuno, nel testo si legge che non ci sono informazioni chiare sulla relazione tra Deme e Khan, quindi la loro relazione potrebbe essere segreta o poco chiara. 2. Nessuna nuova foto della coppia, la mancanza di foto di Deme e Khan che mostrino la loro attuale relazione potrebbe suggerire che la loro relazione non sia annunciata pubblicamente o ufficiale. 3. Khan non ha una ragazza, Deme non ha un fidanzato, queste affermazioni sembrano indicare che sia Deme che Khan non hanno relazioni romantiche. 4. Le riviste dicono che i due si sono visti a prima vista, questa affermazione implica che il primo incontro di Deme e Khan sia stato speciale o impressionante, ma questa potrebbe essere solo l'interpretazione delle riviste. 1. Riservatezza e vita privata, Deme e Khan tendono a mantenere segreta la loro relazione. Nessuna delle parti sembra preferire una relazione pubblica. 2. Affermazioni e voci, il fatto che le riviste descrivano la relazione tra Deme e Khan come amore a prima vista dimostra che i media o le voci potrebbero non riflettere la verità. Spesso queste affermazioni possono essere lontane dalla verità. 3. Natura della loro relazione, nel testo si afferma che Deme non ha un fidanzato e Khan non ha una fidanzata. Tuttavia, ciò potrebbe significare che due persone hanno stretto un legame a livello di amicizia. 4. Interessante e sorprendente, Metin sottolinea che la relazione tra Deme e Khan può essere interessante o sorprendente. Ciò suggerisce che la relazione potrebbe svilupparsi in un modo speciale o insolito per entrambe le parti. 5. Pressione sociale e aspettative, Deme e Khan potrebbero mantenere segreta la loro relazione perché potrebbero non voler essere esposti alla pressione sociale o alle aspettative dall'esterno. Questa è una situazione più comune, soprattutto se si tratta di nomi famosi o conosciuti. 6. Affermazione di amore a prima vista, l'affermazione amore a prima vista dei media implica che l'inizio della relazione tra Deme e Khan si è avvenuto in modo romantico o impressionante. Tuttavia, non è noto fino a che punto queste affermazioni romantiche corrispondano alla realtà. 7. Mancanza di relazione in giovane età, l'informazione secondo cui sia Deme e Khan non hanno una relazione definisce i giovani che non hanno una relazione in giovane età. Ciò potrebbe indicare che potrebbero avere una prospettiva diversa sulle relazioni romantiche. 8. Complessità della relazione, le espressioni nel testo indicano che la relazione tra Deme e Khan può essere insolita o complessa. Ciò indica che potrebbe esserci più storia o ragione dietro la loro relazione. 9. Impatto mediatico, il testo attira l'attenzione su come le riviste definiscono il rapporto tra Deme e Khan. Ciò mostra come i media e il pubblico modellano e interpretano la vita privata delle celebrità. I media possono creare storie al di là dei fatti. 10. Dinamiche relazionali, l'ambiguità della relazione tra Deme e Khan solleva interrogativi sulla complessità delle relazioni e su come entrambe le parti definiscono le loro relazioni romantiche. Ciò fornisce un'importante opportunità per considerare come le relazioni vengono definite e vissute. 11. Parti coinvolte, il testo sembra concentrarsi esclusivamente sulle situazioni di Deme e Khan. Tuttavia, poiché le relazioni sono solitamente una questione tra due persone, i pensieri e i sentimenti di entrambe le parti sono importanti. 12. Norme e aspettative sociali, nel testo si crea l'impressione che la relazione tra Deme e Khan sia percepita come una deviazione dalle norme sociali. Ciò può rappresentare un'opportunità per mettere in discussione le aspettative e le norme della società riguardo alle relazioni romantiche. 13. Protezione della vita privata, la scelta di Deme e Khan di mantenere segreta o poco chiara la loro relazione può indicare il desiderio di proteggere la loro vita privata. Le celebrità spesso vogliono sfuggire all'attenzione dei media e mantenere la propria vita personale. 14. Limiti delle affermazioni e delle voci, il testo sottolinea che le affermazioni delle riviste sulla relazione tra Deme e Khan potrebbero essere limitate alla realtà. Ciò dimostra che i media possono distorcere la realtà e fornire informazioni inaccurate o esagerate sulle relazioni delle persone. 15. Stato civile, nel testo si afferma che Deme non ha un fidanzato e Khan non ha una fidanzata. Ciò potrebbe implicare che le due persone non abbiano una relazione romantica. Tuttavia, elle e amicizia o un altro tipo di legame potrebbero essere possibili. 16. Interesse e sorprese, Metin sottolinea che la relazione tra Deme e Khan può essere interessante o piena di sorprese. Ciò potrebbe suscitare curiosità su ciò che riserverà il futuro della relazione. 16. Inizia 17. Inizia 17. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 21. 23. 22. 23. 22. 23. 24. 25. 28. 28. 29. 2000. 27. 29! 22. 30! 31. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.